Iniziamo con le domande per Adrienne Rabiot e iniziamo come d'abitudine con il nostro canale. Ciao Adrienne, buongiorno, Enrico Zabroni di Juventus TV. Ti chiedo quanta voglia c'è all'interno della squadra di riscattare la sconfitta di San Siro e di tenere chiaramente aperto il discorso della qualificazione. Grazie. Ciao, c'è una grande voglia di tutta la squadra di far bene, di andare lì a vincere questa partita per poter sperare ancora la qualificazione. Ciao, Giovanni Albanese Sport Italia. Senti, vi siete dati una spiegazione all'interno dello spogliatoio di cosa non sta andando in questo periodo? Grazie. Stiamo parlando sempre, anche quando vinciamo, perché non è sempre tutto bene, ma se sapevo cosa non va per la squadra sarebbero facili. dobbiamo risolvere i problemi sul campo perché all'interno della squadra siamo bene come compagni di squadra, come uomini, abbiamo un bel gruppo, stiamo lavorando bene in allenamenti e dobbiamo cercare di fare quello che facciamo in allenamenti in partita. Ciao, Giorgio Musto di Calciomercato.it. Ti chiedo se finalmente ti senti un giocatore importante, fondamentale per questa Juve e se pensi che il tuo futuro possa essere ancora qui l'anno prossimo. Grazie. Io ovviamente mi sento importante per la squadra, ma credo che siamo tutti importanti, ogni uno. Ha un ruolo importante da giocare in squadra. In questo momento mi sento bene in campo, mi sento bene fisicamente. Sto cercando di trascinare la squadra, di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni. Buongiorno Adrienne, Nicola Balice, calciomercato.com, Corriere dello Sport e Corriere Torino. Rinnovo anche io la domanda del collega, a proposito del tuo futuro, pensi di poter rinnovare il contratto o credi che questa possa essere la tua ultima stagione? Grazie. Veramente non lo so. In quel momento ci sono altre cose da pensare. Io sono concentrato sul campo, a fare bene, aiutare la squadra e uscire di questo periodo di difficoltà. E poi vedremo cosa succede. Ciao, Alessandra D'Angiora, iSport. Abbiamo visto nell'allenamento di questa mattina, il mister vi ha parlato, prima di iniziare. Cosa vi ha detto per prepararvi alle prossime fondamentali 24 ore? E cosa ha detto in particolare a te? Perché abbiamo visto che si è attardato con te. Forse ti ha chiesto qualcosa in particolare dopo l'ultima gara di Champions. No, solo ho parlato del programma dell'allenamento di oggi, come fa sempre prima dell'allenamento. Poi l'altra cosa è una cosa tra me e lui, non posso parlare di questo. Bene? Ciao Adrienne, Cristiano Corbi, il bianconero. Ormai sono diversi gli anni in cui sei a Torino, hai avuto tre allenatori, tanti compagni in reparto. Questo centrocampo attuale dove lo collochi? Se potessi fare una gerarchia. Grazie. È vero che la squadra è cambiata tonto da quando sono arrivato. Prima c'erano più giocatori di esperienza. Adesso siamo un po' più giovani, con meno esperienza, ma con tanta qualità. Secondo me questo centrocampo, questa squadra è una buona squadra, ma forse con un po' meno di esperienza da quando sono arrivato tre anni fa, quattro anni fa. Buongiorno Adrienne, Nicola Gallo Mediapason. Io sinceramente non sto pensando al Mondiale, perché adesso ci sono tante partite da giocare qui con la Juventus e dobbiamo cercare di far bene. E poi penso che gli altri hanno la stessa mentalità, anche se è vero che è difficile non pensarci. Dobbiamo cercare di far bene qui durante il mese che arriva e poi concentrarsi sul Mondiale. è una stagione un po' difficile, perché il Mondiale è lì durante la stagione, ma dobbiamo cercare di stare concentrati comunque su quello che dobbiamo fare qui in club e poi vedremo il Mondiale dopo. Ultima domanda qui dalla sala stampa. Marco Bò di Tutto Sport, volevo sapere secondo te qual è la miglior qualità di Allegri, oltre al fatto di pensare che tu sia un giocatore molto forte? Non ho capito la migliore qualità. Secondo te qual è la miglior qualità dell'allenatore di Allegri, oltre al fatto che lui pensa che tu sia un giocatore forte e avrà altre qualità? Secondo te qual è la più importante? È un allenatore molto forte. Anche sa gestire bene un gruppo, anche fuori dal campo, questo è molto importante. Non tutti gli allenatori hanno questo. Per questo penso che lui sia un allenatore completo fuori e anche dentro dal campo. Bene, grazie Adriano, non vedo domande dei giornalisti collegati da Israele, quindi iniziamo con le domande per il ministro Massimiliano Allegri e iniziamo dal canale. Buongiorno mister, Enrico Zabroni, Ventus TV. La cosa più importante che lei domani sera vuole vedere in Israele? Domani sarà una partita molto complicata perché comunque loro sono una squadra che già qui ha fatto vedere le ottime cose, sono dei buoni tiratori, hanno tirato molte volte qui da noi. In casa hanno fatto una buona partita col Paris Saint-Germain, l'ambiente è molto caldo quindi bisognerà stare attenti e soprattutto in certi momenti della partita non ripetere gli errori che abbiamo fatto fino ad ora. Buongiorno mister, Filippo Cornacchi è la Gazzetta dello Sport. Le volevo chiedere, nel 2014-2015 avevate sempre tre punti dopo tre giornate e nella partita con l'Olympiakos, che era delicata almeno quanto questa, lei, come è successo tante volte alla Juve nella sua gestione, nei momenti di difficoltà ha sempre tirato fuori qualcosa. Con l'Olympiakos tirò fuori Vidal trequartista, se non ricordo male. Può essere domani la partita per una allegrata e quindi magari vedere Di Maria, Milik e Vlaovic tutti insieme? No, se mi hai già detto che Milik e Vlaovic tutti insieme, lo dico che non è un'allegrata. Quindi al limite farò una cosa che nessuno si immagina, però detto questo, domani bisogna fare una partita di compattezza. In questo momento qui bisogna ridurre al minimo gli errori, perché noi facciamo degli errori purtroppo in certi momenti della partita, è successo il quartore con il Maccabi, la partita di Milano è stata la farza riga della partita col Benfica in casa, nonostante che col Benfica abbiamo fatto gol, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo gol, però un minuto alla fine del primo tempo prendiamo rigore, come rientriamo in partita all'inizio del secondo tempo, facciamo dieci minuti bene e poi su un mezzo contrasto perso prendiamo il secondo gol. Quindi su queste robe bisogna sicuramente lavorarci, però in questo momento qui la cosa più facile da fare, la cosa che è più redditizia è quella di avere più compattezza all'interno della partita. Buongiorno, mister Giovanni Albanese Sport Italia, le faccio una domanda sul Maccabi, perché all'andata c'erano tanti assenti per via del digiuno, poi alcuni sono entrati nella ripresa. Che tipo di formazione si aspetta? Grazie. La formazione che ha sempre giocato, una formazione comunque che ha delle buone qualità tecniche, ripeto, dei buoni tiratori e domani per vincere la partita bisogna fare una grande partita, ma la cosa basilare domani sicuramente è avere molta più attenzione nella fase difensiva, in certi momenti della partita, sulle marcature preventive, su tutto quello che concerne i momenti dove noi fino a questo momento abbiamo lasciato cose per strada. Buongiorno, mister Domenico Marchese, La Repubblica. Lei sabato ha detto che da questo momento dovete uscirne con le buone o con le cattive e volevo sapere che cosa intendeva con le cattive. Grazie mille. Con le cattive. A parte che è un modo di dire, però nel senso che in questo momento bisogna comunque tirar fuori qualcosa in più, perché comunque il dettaglio fa la differenza, il centimetro in più fa la differenza, l'attenzione in più fa la differenza, senza pensare che bisogna stravolgere il mondo, ma sicuramente bisogna fare delle partite come attenzione, come cuore, come passione in modo diverso. Buongiorno, mister Filippo Monsignor del Corriere Sport. Le chiedo quali cordi ha toccato nello spogliatoio con il gruppo per scuotere, per uscire da questo momento. Grazie. Il fatto che comunque c'è la possibilità, quella di domani sera, di giocare subito un'altra partita e quindi va vista come un'opportunità per rilassarci in piedi. Le due partite avevano l'uso un po' tutti, ma questo è stato un errore, perché comunque non bisogna mai illudersi, bisogna vivere di realtà, di cose pratiche. Quindi è un percorso che va fatto crescendo giorno dopo giorno, lavorando con passione, mettendosi sempre in discussione e avere la voglia di arrivare agli obiettivi, creare presupposti. Poi se ci sono squadre più bravi di noi, più forti di noi, quello lo vedremo alla fine. Però noi in campo non dobbiamo più fare errori come sono successi ripetutamente in varie partite all'inizio del campionato. Buongiorno, Minister Maghede Abu Abiyarai, TGR. Lo stava dicendo anche Rabiot, magari c'è una squadra talentuosa ma con poca esperienza. A Paris Saint-Germain in Israele ha avuto molte difficoltà fino al sessantesimo, gli israeliani tenevano bene il campo e il PSG ha temuto parecchio. Non c'è il rischio che magari la squadra rischi di sottovalutare l'importanza della partita? Dopo un inizio di campionato, a quanto difficoltoso, una mancata vittoria potrebbe mettere in sera discussione la qualificazione. Il gruppo sente questa pressione? Più che la pressione bisogna essere cosci dell'importanza della partita, perché comunque è una partita complicata, l'ho detto anche prima della partita dell'andata, e poi le partite vanno vinte sul campo. Prima delle partite le giocano e le vincano tutte, però vanno vinte sul campo. Quindi domani noi bisogna fare una partita di grande attenzione e di grande rispetto. Ma come vanno giocate tutte? Non è che domani è diversa da un'altra. Perché tutte le squadre hanno delle qualità e soprattutto non dobbiamo dare dei vantaggi, che sono quelli che in certi momenti usciamo dalla partita. Questo bisogna sicuramente migliorarlo. Buongiorno Alessandra D'Angiora, iSport. Restando su questo argomento, si è parlato molto della tenuta psicologica e mentale della squadra, che è un tema ricorrente dall'inizio del campionato. Nelle ultime 48 ore ha avuto la percezione che questo gruppo è solido mentalmente abbastanza da affrontare una partita che è da dentro fuori per le ripercussioni Champions? Assolutamente sì. Ministero Nicola Gallo, Mediapason, buongiorno. Torno più o meno su questa domanda. Si aspettava qualcosa di più a livello di personalità dal gruppo che fa fatica un pochettino a reagire alle difficoltà? Perché adesso se non sbaglio in questa stagione forse solo con la serenità è arrivata una reazione poi giunta in porto. E forse a Parigi. Io credo che ci sia un percorso di crescita e questo non deve essere un alibi, perché non bisogna avere degli alibi. Noi bisogna andare in campo e fare il massimo di quello che bisogna fare sotto tutti i punti di vista. Sotto l'aspetto della compattezza, sotto l'aspetto della voglia di lottare su ogni pallone. Le cose basilari che servono per giocare una partita di calcio. Il cuore, la passione. Poi è normale che l'esperienza si fa giocando e pagando con certi errori. Ma questo fa parte di un percorso che la Juventus ha iniziato dopo tanti anni di vittorie. Io capisco che dall'esterno sembra facile prendere... si cambiano i giocatori finiscono i cicli, perché la vita è ciclica e dopo tre mesi vinci, fai ma non è così. Noi mettiamo tutto l'amore e la passione in questo lavoro per cercare di arrivare e riportare la Juventus subito nelle posizioni che li competono. Però ci sono altre squadre che sono cresciute hanno iniziato nuovi cicli e su questo noi bisogna lottare. Quindi bisogna fare di più per raggiungere gli obiettivi. Ora bisogna fare molto di più perché bisogna riacquistare un'autostima generale che prima c'era perché le vittorie ti danno autostima e su questo bisogna lavorarci lavorare ogni giorno crescere e ritornare a livelli che la Juventus li compete. Ultime due Buongiorno Allegri Marco Bò di Tutto Sport giustamente lei dice un passo alla volta però questa settimana ci saranno due partite col MACB e poi il derby si può pensare all'eventualità della convocazione di Chiesa per il derby o sarebbe ancora troppo presto? No, assolutamente no ha fatto due allenamenti con noi ma è ancora indietro ora domani va a giocare a allenarsi con i ragazzi perché noi siamo fuori per non tenerlo fermo soprattutto lui deve acquistare quella fiducia nei movimenti nelle cose di campo però sta bene sta bene questo sì ma col Torino assolutamente no Buongiorno mister Alberto Maru il messaggero di Juventus News 24 la sensazione da fuori è che la squadra stia sottopreformando a livello collettivo ma anche di quasi tutti i singoli le chiedo se è d'accordo e come rimediare eventualmente a questa cosa grazie io di sottopreformando io la cosa che ho chiesto ai ragazzi e che i ragazzi su cui siamo tutti d'accordo è essere più compatti e andare a eliminare quegli errori che stiamo facendo all'interno di una partita che sono errori che una squadra che punta a vincere non deve fare allora verifichiamo se ci sono domande dai giornalisti israeliani e non vedo mani alzate bene se non ci sono grazie a tutti buona giornata grazie a tutti